Archiviata l'ottima prova di Coppa Italia contro il Gravina e nuovamente tempo di scendere in campo per la Fidelis. Per gli Azzurri al turno successivo c'è il Martina. Mister Raffadina ha fatto il punto della situazione in vista proprio del derby contro la compagine in Triana. Andiamo ad ascoltare. Un test molto molto complicato anche perché lo affronteremo ancora un po' in emergenza. No, quindi abbastanza complicato, però noi rispettiamo l'avversario ma non abbiamo poverone nessuno. Io conosco molto bene il Martina, ha fatto un mercato importante. Loro hanno preso un paio di giocatori che l'anno scorso si sono messi in mostra in questo campionato. Se fosse arrivato un poco prima d'Andrea, secondo me tentavamo di prenderli anche noi. Che ruolo può recitare la Fidelisandria in questo campionato? Così il tecnico che inoltre si esprime sul nuovo Girone H. Il tutto in attesa di ulteriori novità dal mercato per rendere la formazione azzurra ancora più competitiva. Lo vincere a Napugliese. Sicuramente penso che vincere a Napugliese anche quest'anno. Perché secondo me siamo tanti da Pugliese, quindi alla fine una metterà la testa sopra. Penso che sia un Girone molto ma molto complicato. È vero che non ci sono le squadre di tradizione come Cavese e Nocerina, per esempio, che c'erano l'anno scorso. Però ci sono squadre impostate bene. Noi in questo momento non siamo assolutamente pronti. Qua ci sono delle squadre che hanno dichiarato che partono del campionato. Noi non abbiamo dichiarato niente del genere. Se completiamo la rosa sicuramente, come siamo adesso, non siamo sicuramente da vittoria a campionato. Però se riusciamo a completare la rosa in un certo modo potremo dire la nostra.